Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa che inizia subito dalle prime pagine regionali. Mi scuso per la voce, non al top, ma purtroppo il mal di gola non perdona. Allora, come detto, iniziamo dal quotidiano Il Centro, edizione di Pescara che apre così, la ragazza ferita perde il piede dell'incidente del bus a Caprara, la mamma dice evviva e realizzerà i suoi sogni. Andiamo a vedere poi all'interno, abruzzo dello Spoil System, neopresidenti e CDA, i nomi dei prescelti. La foto che vedete è quella del Presidente del Consiglio regionale Sospiri, decisi i presidenti e CDA di Ater, Azzu e Arap. La mappa con tutti i nomi dei prescelti è pronta, ieri le prime nomine da parte del Presidente del Consiglio regionale, oggi il Governatore Marco Marsilio completerà il lavoro, così la Regione esce dall'impasse dello Spoil System di cui pubblichiamo tutti i nomi, questo scrive il Centro. Poi la sanità in Abruzzo, sia gli infermieri anche di famiglia per assistere a domicilio i pazienti, questa è una delle novità annunciate ieri dall'assessore regionale Nicoletta Veria Pescara durante la presentazione assieme al collega di giunta Piero Fioretti del nuovo piano sociale per oltre 300 mila cittadini. Ancora la cronaca, schianto in scooter grave un fattorino, il 18enne aveva appena consegnato delle pizze in via di sotto lo scontro con un'auto. Di spalla Pescara nelle cronache, Mense riparte la protesta dei genitori, sì al cibo da casa, pochi giorni dalla riapertura delle scuole, poi addio a Mosca, il primario chiamava i pazienti e per gli eventi Montesilvano e il turismo riparte dal pala di Martin. A centropagina la foto con Maniero, calcio, la visita al quotidiano del bomber in Lizza per sostituire l'infortunato Tuminello, Maniero in redazione, Pescara mi farò perdonare con i gol, così Riccardo Maniero, 31 anni. Poi ancora andiamo nel taglio basso, c'è il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tan, il titolo Il padre che rendeva il mondo più bello, una riflessione che prende spunto da un post del cantante Cremonini che ha perso il padre, che aveva 95 anni. Andiamo avanti sempre sul quotidiano Il Centro, ci spostiamo sulla edizione di Chieti Lanciano Vasto, il titolo di apertura aggredisce la fidanzata e viene arrestato, cameriere entra dal balcone in casa della donna e la picchia sul letto. Poi andiamo a vedere il centropagina, la fotonotizia Pilkington prolungata, la cassa integrazione no a 55 licenziamenti, l'avvertenza del Colosso di San Salvo. Si allontana dunque il rischio dei 55 licenziamenti nella fabbrica che produce vetri per auto. Il Mise ha concesso la proroga alla cassa integrazione straordinaria al 10 novembre e a seguire l'arrivo di possibili nuovi fondi dal decreto ILVA. Nello spazio delle cronache andiamo a Chieti, alunni disabili, l'assistenza tagliata con una lettera, così è stata tagliata l'assistenza scolastica agli alunni disabili, scoppia la protesta per la lettera del comune mandata alla Chieti Solidale. Poi Vasto Corleone visita il carcere sia i diritti per i detenuti, così il garante per i detenuti della Toscana. Poi a Lanciano scoperti tre aggressori del 17enne ferito ad un occhio. Andiamo avanti, la ragazza ferita perde il piede, abbiamo già visto nell'apertura della prima pagina di Pescara questa notizia. Ci spostiamo sulla edizione teramana del Quotidiano Il Centro, sisma via 25 nuove assunzioni, l'ufficio speciale di Teramo e i comuni, ora potete prendere i tecnici. Nella fotonotizia perde 1000 euro giocando alle slot e simula una rapina ma viene scoperto, la notizia arriva da Alba Adriatica, andiamo a vedere la didascalia non essendo in grado di giustificarsi con la moglie dopo aver perso 1000 euro giocando alle slot machine. Un 69enne incensurato di Alba Adriatica ha simulato una rapina denunciando ai carabinieri di essere stato aggredito e derubato in strada. Ai militari è bastato poco però per capire che si trattava di simulazione e dunque denunciarlo. Nello spazio delle cronache è scoperto un altro sabotaggio alla cabinovia Prati di Tivo, l'episodio finito nel mirino della procura è avvenuto il 5 di agosto, poi a Teramo rischio incompiuta per la scuola antisismica e ancora a Silvi, la figlia parla il processo, papà mi ha bruciato l'auto. Andiamo ancora avanti, sempre sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere l'edizione aquilana in apertura, parco urbano, via libera al progetto, passo avanti per il piano da 13 milioni su Piazza d'Armi all'Aquila. Nella fotonotizia vedete la foto dell'attore Lino Guanciale al lavoro senza retribuzione per il Teatro dei Marsi, l'attore coordinerà la stagione di prosa. Nelle cronache a Sulmona alla Marelli c'è intesa su assunzioni e investimenti, licei scientifici, bafile e vitruvo Poglione dell'Aquila a Vezzano nel progetto dei corsi del Ministero e Ordine dei Medici per individuali potenziali dottori. Poi ancora a Vezzano, parco dei dinosauri, oggi l'attesa apertura e ancora ad Avezzano palpeggia una minore, ora rischia il processo. Ci spostiamo adesso sulla prima pagina dell'inserto a Bruzzo del Messaggero, in apertura ritroviamo la notizia che riguarda le conseguenze dell'incidente del bus della tua, la ragazza ha perso un piede, schianto contro un albero, Rosanna a 17 anni è stata operata per oltre 10 ore, i conducenti del pullman e del auto negativi all'alcol test, inchiesta per le lesioni. Restando alla cronaca, Lanciano, studente, rischia di perdere l'occhio, il branco alle corde, sia pure con immagini non niti dei filmati di due telecamere in via De Crecchio, stanano, identificano i sei aggressori del lancianese Emanuel Masciarelli, 17 anni, picchiato con pugni e schiaffi dopo l'apertura delle feste di settembre e che rischia di perdere l'occhio sinistro, dovuta alle lenti degli occhiali che si sono frantumati bucandogli la cornea. A centropagina la politica, Legnini decolla, la candidatura a commissario, l'ex presidente delle CSM potrebbe occuparsi del post terremoto in quattro regioni. Poi ancora sul Monas Garbi boccia il restauro della chiesa Pratiditivo, tranciati i cavi di sicurezza della funivia, secondo sabotaggio in pochi mesi, indaga il RIS. Andiamo nell'articolo di Spalla, nomine in regione, arrivati i primi nomi, abbiamo già visto anche sul centro, per Adsu, Arap e Ater, vicino a chiusura dei CDA aziendali. Nel taglio basso, a San Salvo, Pilchinton, salvi 50 operai con l'intervento di prolungamento della cassa integrazione. Nel taglio alto le altre notizie. Albadriatica, rapina inventata, aveva sperperato tutti i soldi alle slot machine, clima, Federica Gasbarro come Greta rappresenterà l'Italia all'ONU. E poi il calcio, il portiere Fiorillo consiglia Pescara, devi essere cinico. L'estremo difensore Biancazzurro attende la capolista Virtus Sentella, metterei la firma per vincere sempre come abbiamo fatto a Cosenza, dice il portiere Biancazzurro. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, apre così, costruire ovunque, consumare tutto, abruzzo in testa alla classifica italiana per l'aumento più consistente del consumo del suolo. A centro pagina carne in decomposizione abbandonata in via Longo, siamo a Teramo, Carroni e nel Fondaco, questa la scoperta fatta dopo l'allarme lanciato dai residenti. E ancora asfalti, meno disagi del previsto, a Teramo sistemata la metà di Ponte San Gabriele. Andiamo a vedere sotto la testata le altre notizie. Piazza Garibaldi a Teramo, lite tra nulla facenti, finisce abbottigliate a Roseto degli Abruzzi, mercato, cresce il fronte del lungomare e poi la rubrica il web è morto. Non è poi così vero, anzi. Andiamo a vedere di spalla le nomine. Maria Cecia, la presidenza delle case popolari Ater, a Colonnella, a TR, botte e risposta sullo sciopero. Nel taglio basso, il Lions Club Bikers Leoni di solidarietà ha donato un ruotino motorizzato a Veronica. questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso andiamo ad aprire lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo, come avete visto, dal Corriere della Sera. In apertura alla politica, giustizia, tensioni, PD, Movimento 5 Stelle, prima lista dei gruppi di Renzi, 40 deputati e senatori con lui in Italia. Viva! Intanto voto segreto e sospetti incrociati alla Camera. 46 franchi tiratori negano i domiciliari a Sozzani di Forza Italia. L'editoriale l'Italia non solo. I partiti, tra parentesi, troppo personali, firmato da Venanzio Postiglione. Poi, verso la manovra, così funzionerà il bonus sulle auto ecologiche. Allo studio, appunto, questo provvedimento per incentivare il green in Italia. Poi, nella fotonotizia al record di sbarchi. Macron assicura a noi siamo con Roma la visita nei colloqui e le prove d'intesa sulla Libia, fra Italia e Francia, in un nuovo dialogo ritrovato dopo le tensioni dei mesi scorsi. Petrolio, l'Iran sott'accusa. Ecco le armi dell'attacco, mostrati missili e droni, gli USA, sanzioni più severe. Andiamo avanti sulla Repubblica. Il titolo di apertura, cominciamo bene. Conte 2, primo K.O., voto segreto, maggioranza subito sotto, negato l'arresto di un deputato di Forza Italia. L'Ira dei 5 Stelle, solo noi compatti, malumero nel PD e attacchi ai nuovi renziani. Macron intanto a Roma, sì alla redistribuzione dei migranti. Ecco gli incentivi, la manovra verde nel nome di Greta, tagliati gli sgravi fiscali per i tir inquinanti a Washington e l'incontro fra Greta Thunberg e Obama. Poi l'analisi, falsi maestri dell'economia e l'articolo di Alessandro Penati, retroscena e ora è caccia ai responsabili per quanto riguarda il voto su Sozzani e l'articolo di Annalisa Cuzzocrea. Poi nel taglio basso il voto in Israele, Netanyahu e il sapore della sconfitta. Gli israeliani hanno espresso con una precisione matematica la loro perplessità. Gli elettori dei due campi a confronto hanno messo nelle urne il 17 settembre, un identico se non proprio uguale numero di voti per i rispettivi partiti. Andiamo adesso a vedere la stampa. Titolo di apertura, il governo litiga sui fondi verdi, rischia di slittare il decreto green preparato dal ministro Costa, atteso in consiglio dei ministri, da Lema a Renzi, canto bandiera rossa ma non torno nel PD e posso dare lezioni di riformismo. Macron intanto a Roma assicura conte sui migranti sia la redistribuzione, l'Italia ha subito delle ingiustizie. La nuova maggioranza, l'incertezza condiziona la manovra e l'articolo di Franco Bruni. Poi in questo box le interviste, Marattini, basta deficit e più concorrenza, Macaluso, PD reagisce o finirai per morire. La Carfagna, Correnzi, mai neanche un caffè Toninelli, al ministero ho pulito il marciume, il focus sulla politica. Poi c'è anche un articolo di Gianni Riotta, dagli USA all'Europa, se la sinistra si allea con i populisti. A centropagine invece i sauditi attaccati da missili e droni iraniani, ecco le prove mostrate dal portavoce del ministero della difesa saudita. Qui vedete proprio i resti delle armi usate nel raid. Washington dice è stato un atto di guerra. Andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano, il titolo di apertura con questo fotomontaggio. Ruba due bottiglie, quattro anni di galera, chiede tangenti la Camera, lo salva. La legge non è uguale per tutti. Mezzo PD, Forza Italia e Lega salvano Sozzani di Forza Italia dall'arresto per corruzione e negano al GIP le intercettazioni. Questa è la notizia principale del Fatto Quotidiano. Andiamo avanti sul sole 24 ore. In apertura il calo dello spread regala alle banche 2,4 miliardi di euro. Titoli di Stato dal giorno della sfiducia il differenziale BTP Bund è sceso di 100 punti base. Ora la sfida è aumentare l'erogazione di credito a imprese e famiglie. Poi andiamo a vedere il Green New Deal, sconti sui prodotti senza imballaggio, bonus verdi dannosi, taglio del 10% fino all'azzeramento, almeno queste le prime indiscrezioni. Oggi il Consiglio dei Ministri, incentivi anti-packaging e per la mobilità sostenibile, a rischio sconti di gasolio e tir. Andiamo a vedere poi le altre notizie. La Fed riduce i tassi di 25 punti a 1,75 meno 2%. Politica monetaria, ira di Trump senza coraggio, Powell, mai tassi negativi in nuovo taglio entro l'anno. Andiamo avanti con i quotidiani nazionali. Adesso ci spostiamo sull'avvenire. Il quotidiano cattolico apre così di tasse e di sconti. Conte promette una manovra sul lavoro e ambiente, riduzione del cuneo fiscale e stop agli incentivi sui prodotti inquinanti, bonus invece per quelli sostenibili. Primo confronto del Premier coi sindacati, remiamo insieme, restano quota 100 e reddito di cittadinanza. A centro pagina poi ammortizzatori e riconversione dopo lo stop ai missili RWM al Ministero degli Esteri, un tavolo per dare risposte ai lavoratori dell'azienda di armi e futuro al territorio. Poi ancora associazioni tra virgolette fredde sulla mossa di Renzi, Italia Viva prepara i nuovi gruppi parlamentari. In arrivo anche un ingresso da Forza Italia. Poi l'operazione della Guardia di Finanza, blocco delle TV pirata, clienti a rischio di multa. Andiamo sul manifesto, il titolo di apertura, la striscia di Gantz. Questo è il gioco di parole sulle elezioni in Israele. Netanyahu al Capolini arriva secondo e senza maggioranza su di lui lo spettro del processo per corruzione, ma Israele cambia poco verso l'incarico l'ex generale Gantz che ha guidato le ultime offensive contro Gaza, vantandosi di averla riportata all'età della pietra. Poi ancora Renzi tratta, gruppo anche al Senato, Speranza neoministro di articolo 1, la ditta non rientra nel partito democratico. Andiamo sul messaggero, il titolo di apertura, venti di scissione anche nel Movimento 5 Stelle, le giustizie, attenzione PD 5 Stelle alla Camera per il no all'arresto del deputato di Forza Italia Sozzani, caso franchitiratori, renziani, noi siamo estranei, i provi di gruppo grillino per dissenso a Di Maio. Corsa alle alleanze, l'inganno del civismo, una mossa a copri partiti, è l'articolo di Alessandro Campi, poi il taglio del cuneo fiscale in manovra, rottamazione auto nel pacchetto green, i dem frenano sul decreto costa, la visita a Roma, ai temi Libia e flessibilità, Conte Macron, spiragli sui migranti da redistribuire, sanzioni a chi rifiuta. A centropagina, eccoli, erano i missili iraniani, ora altre sanzioni, Riyadh mostra i resti dell'attacco alle raffinerie, Trump per Teheran, punizione economica. Andiamo adesso sul quotidiano Il Tempo, il titolo di apertura ci porta invece nella capitale i 26 hotel che hanno fregato la Raggi. Dal Radisson al Plaza, ecco tutti i nomi di chi ha evaso la tassa di soggiorno, la procura accusa i proprietari di peculato, per Roma un buco pensate da 11,3 milioni di euro. E poi andiamo a vedere anche la vignetta satirica del Tempo di Osho, io te lo dico alla prima battutina che mi fanno su Banca Etruria, io corro corpi di, questo è il dialogo immaginario fra la Boschi e Renzi, Boschi capogruppo di 5 Stelle fanno già muro. Andiamo avanti su Libero a Renzi, complimenti per la distruzione, il grande rottamatore ha rotto il PD ed ora era ora, con l'uscita di Matteo finisce l'equivoco dell'unità della sinistra ed è già caos, il primo voto in aula sull'arresto di un forzista, la maggioranza va sotto. Andiamo a vedere anche il titolo della verità, i 5 Stelle faranno la fine di Alfano, Di Maio è caduto in una trappola, la scissione di Renzi ha cambiato le carte in tavola nella maggioranza e il grillino si ritrova a governare con la Boschi, il partito di Etruria, Jobact, Trivelle eccetera. Il movimento non può sopravvivere anche a questo cedimento, la crisi è l'unica via d'uscita, arrivano pure i berlusconiani, la senatrice Consatti passa Italia Viva, altri seguiranno secondo il quotidiano di Belpietro. Lettera aperta, i traditori Renziani si ricordino di fini, scrive ancora Belpietro nel suo editoriale. Poi i migranti in gorgo di sbarchi a Lampedusa hanno ripreso ad approdare a centinaia al giorno, intanto si scopre che rimpatriare 38 africani costato un milione, a Bologna marocchino integrato ritira il figlio dall'asilo dicendo troppi stranieri. A centropagina dopo il crollo del ponte la società dei Benettoni ingaggiò investigatori per ostacolare le intercettazioni, questa è la rivelazione della verità. Andiamo sul secolo d'Italia, reddito di latitanza, il titolo con la foto di Renzi, 15 mila euro al Senato per non fare nulla, ecco Matteo Renzi, altro che riformismo. Nel taglio basso in primo piano, Fratelli d'Italia vuole il presidenzialismo, sì anche al doppio turno, Casini vede tra virgolette il Quirinale, tende la mano a Renzi, da Forza Italia a Renzi la prima e la senatrice Consatti. Sul mattino di Napoli, giustizia, prime crepe PD 5 Stelle, lite la Camera per l'arresto del deputato di Forza Italia, scambio di accuse sui franchi tiratori, migranti, vertice del disgelo, Macron, Conte, redistribuzione automatica e sanzioni per chi rifiuta. E poi la vera forza di Renzi è l'incertezza, scrive Massimo Adinolfi, sulla scissione del PD, alleanze giallorosse e l'inganno delle liste civiche. Nel taglio alto, TV Pirata ha chiuso a Napoli la base europea, 5 milioni di utenti con 15 Euro vedevano film, serie TV e partite di calcio, l'intervista a Desiervo, la Lega Calcio, ora vanno puniti anche i clienti. Poi la vertenza occupata, la A3, Whirlpool, la rabbia degli operai e il ministro, gioca l'ultima carta. Andiamo a vedere anche il secolo XIX, titolo di apertura, governo ha vuoto la prima mossa, il lite sul decreto per l'ambiente, Macron da Roma rassicura Conte sui migranti, sì la redistribuzione, l'Italia ha subito ingiustizie, rischia di slittare il provvedimento del ministro Costa con sgravi misure green, mancano le coperture. Andiamo a vedere poi la fotonotizia, Genova, la ragazza che con i post-it dice no al bullismo, questa la singolare iniziativa che arriva dalla Liguria. Adesso ci spostiamo sui quotidiani sportivi nazionali, chiaramente occhi puntati sulla Champions League, allora partiamo proprio dalla Juve Champions, Juve da 2 a 0 a 2 a 2 in casa dell'Atletico, scusate peccato, bella signora. Quadrado e Matuidi spaventano il Vanda Metropolitano, nel finale pari beffa e super numero di CR7 che sfiora la vittoria, tracce di Sarrismo. Di spalla battuta 4 a 0 a Zagabria, una brutta Atalanta, debutto shock, Gasp ci hanno fatto neri. Poi a Parigi finisce 3 a 0 bene i Cardi, il Paris Saint Germain fa il galattico di Maria e super figuraccia del Real, poi la Lazio oggi per quanto riguarda l'Europa League in Romania senza immobile, la Roma invece lancia la sfida alla Turchia e poi nel taglio basso Maxi Blitz contro i pirati della TV, smantellata Xtreme Codes, piattaforma illecita per la visione di calcio e film. In Italia 5 milioni di clienti rischiano il carcere e multe fino a 25 mila euro. Andiamo sul Corriere dello Sport, il Magone Herrera, Champions il messicano entra e al novantesimo da un dispiacere a Sarri, 2 a 2, il doppio vantaggio della Juve nella ripresa con Quadrado e Matuidi viene vanificato da due gol dell'Atletico su palle inattive, il tecnico avevamo la partita in pugno, dobbiamo migliorare sui calci da fermo. Nel taglio alto l'Europa League è romana, Lazio a Clugi, Roma in casa con il Basaxeir, l'Italia sono loro. Poi andiamo a vedere invece per la Champions, Atalanta esordio da Incubo a Zagabria, la squadra di Gasperini dominata dalla Dinamo per 4 a 0, Orsic mattatore con una tripletta. Il Paris Saint Germain di Cardi fa pezzi il Real, Blancos travolti a Parigi 3 a 0, doppio di Maria, volano il Bayern e il City. Questo per quanto riguarda la Champions su tutto sport, peccato ma è vera Juve il titolo di apertura, i bianconeri danno spettacolo a Madrid, vanno su 2 a 0 con Quadrado e Matuidi, però pagano altri due gol presi su palla inattiva e l'Atletico pareggia al novantesimo. Nel recupero Ronaldo sfiora il 3 a 2. Nel taglio alto la Dinamo fulmina la Dea, pesantissimo il debutto dell'Atalanta in Champions, a Zagabria perde 4 a 0 ma esce fra gli applausi dei suoi 3.000 ammirevoli tifosi. Nel taglio basso l'ex Annoni carica su Toro, ora 6 punti con Samp e Milan, Giampaolo e Conte, il derby che stressa allenare a Milano, la questione stadio San Siro demolirlo, la città si ribella. E noi ci fermiamo con la prima parte della nostra rassegna stampa, facciamo un break per andare a vedere anche le previsioni del tempo per le prossime ore e dopo la pubblicità torniamo invece con la seconda parte della nostra rassegna in cui apriremo come sempre le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. A fra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa, apriamo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi, partiamo dalla pagina Abruzzo del messaggero. Eccola qui la ricostruzione legnini commissario via le verifiche sulla compatibilità, si valuta la possibilità di ricoprire l'incarico con quello di consigliere, si occuperebbe del sisma del 2016-2017 in Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria. Poi andiamo a vedere nel taglio basso, D'Alessandro a cena con Matteo Renzi, lascia il PD con Italia Viva, si cambia, rappresenterò, dice D'Alessandro, la regione nel nuovo movimento, presto un tour sul territorio. E adesso invece andiamo sul quotidiano Il Centro. In primo piano il piano per l'assistenza veri annuncia presto l'infermiere di famiglia, gli assessori alla sanità e al sociale presentano il mega piano di assistenza, interessa 321 mila persone anziane, disabili o dementi. Ecco tutte le novità che potete leggere sul giornale. Nel dettaglio basso di questa pagina ecco Tornareccio Regina del Miele, in vetrine i prodotti dell'Alveare, poi il servizio civile, c'è lavoro per 216 giovani abruzzesi, tutte le disponibilità di enti ed associazioni nelle province dell'Aquila e Teramo, i ragazzi guadagneranno 440 euro al mese. Ecco come presentare le domande. Nel dettaglio basso, cantine aperte per la vendemmia, si parte domenica prossima da Canzano, Dauria dice promuoviamo il turismo. Ma restiamo al piano per l'assistenza, andiamo a vedere sulla città la pagina Abruzzo, 300 milioni nel nuovo piano sociale. L'assessore Piero Fioretti annuncia la riforma che prevede anche l'integrazione sociosanitaria dei servizi offerti. Al centro del piano ci saranno i comuni, le ASP regionali, gli ambiti sociali, ma anche tutti i privati che ogni giorno si misurano con questa realtà. E noi andiamo a vedere il servizio curato da Paolo Renzetti proprio sulla presentazione del piano sociale con l'intervista all'assessore alla sanità Veri. Integrazione sociosanitaria se ne parla oggi in questa tavola rotonda all'Aurum di Pescara. Assessore, quali sono le linee guida e le novità? Le novità fondamentali è che diamo un'attenzione particolare al malato cronico, ossia portiamo quella sanità appropriata sulla persona. Noi abbiamo spesso le difficoltà del paziente una volta dimesso dall'ospedale oppure quando ha un'assistenza continuativa, non sappiamo qual è il contesto ben definito dove poter trovare quelle cure appropriate ma anche che poi durino nel tempo. L'integrazione serve proprio a quello, a ristabilire quella che è un'appropriata terapia adeguata ma soprattutto andremo a definire quali sono le strutture attraverso un'integrazione sanitaria, sociale e delle associazioni. Ci sarà anche un maggior utilizzo di fondi, fondi spesi probabilmente anche in maniera diversa rispetto al passato. Sì, senz'altro la quota sociale è una quota che incide meno per cui quelle prestazioni spesso e volentieri anche inappropriate perché non sappiamo il paziente cronico, l'anziano, poterlo collocare in quale struttura. Oggi andremo a definire sia la struttura sia la retta e qual è il percorso diagnostico. Restiamo sulla città, sempre sulla pagina Abruzzo, amputazione della gamba per la ragazza rimasta ferita sul bus della tua a Caprara e poi il calendario venatorio, altra vittoria dell'associazione ambientalista e contro la regione. Il comitato via impone lo stop alla caccia di Moriglione e Pavoncella di vieto nei siti SIC e ZPS per sei specie. Nella pagina successiva il rapporto dell'ISPRA, avanti tutta costruire ovunque e consumare tutto. l'Abruzzo ha il tasso di crescita del consumo di suolo più alto, quarto per densità dopo Veneto, Friuli e Lombardia. Non peggiora solo l'ambiente ma anche la qualità della vita dei cittadini che lo abitano creando molti problemi. Andiamo a vedere il servizio anche su questa notizia, servizio di Giuseppe Dintino. Da polmone verde d'Europa a regione numero uno in Italia per consumo di suolo e questa è la triste parabola dell'Abruzzo che punta all'esempio padano dell'industrializzazione. Tra il 2017 e il 2018 la nostra regione è quella che ha cementificato di più rispetto al suolo totale già consumato. È quanto emerge dei dati ISPRA, secondo cui in totale si sono persi altri 282 ettari. 38 comuni hanno consumato più del 10% di terreno e 11 comuni più del 20% con Pescara Capofila che ha cementificato il 51,3% del suolo. E questa è sicuramente una delle motivazioni dei continui allegamenti subiti negli anni dal capoluogo adriatico che a volte hanno avuto anche tragici epiloghi. Palazzi e strade sorgono come funghi e il panorama è sempre più grigio. Nemmeno i comuni dei parchi nazionali sono esenti da questo processo. Pesco Costanzo e Pescasseroli hanno consumato oltre un ettaro ciascuno di suolo. L'allarme è lanciato dall'associazione ambientalista Forum H2O che sprona le istituzioni a un cambio di rotta. Intanto continuano imperterrite tutte quelle azioni che mettono a rischio il patrimonio naturalistico abruzzese, come ad esempio la costruzione della centrale SNAM di Sulmona con il relativo metanodotto, progetto approvato anche dal Ministero dell'Ambiente. A dimostrazione di come, anche oggi che le questioni ambientaliste sono tornate di moda e nelle bocche degli opinionisti televisivi, di fronte alla speculazione economica non c'è natura che tenga. Andiamo avanti, pagina Abruzzo sul centro, Spoil System, tutti i nomi dei neopresidenti e CDA. C'è anche l'avvocatessa di Teramo che difende Parolisi, l'assassino di Melania, un terzo delle nomine ufficializzate ieri da Sospiri, le altre le farà oggi Marsilio. Intanto l'Udc esce dalla maggioranza, ma oggi sul governo di centrodestra cade la tegola scoccia. Andiamo avanti, nella pagina di Pescara, dopo l'incidente dell'autobus amputato il piede della studentessa, la mamma dice che realizzerà i suoi sogni. Oltre 12 ore in sala operatoria non sono bastate a salvare l'arto della 17enne gravemente ferita nell'incidente. La madre della ragazza, mia figlia è viva e questo che conta, vuole viaggiare e danzare, io l'aiuterò a farlo. Al coltest negativo, sequestrati i due mezzi, la procura ha aperto chiaramente una inchiesta per capire che cosa è successo. La vicinanza dell'alberghiero pronti a fare le lezioni in ospedale, la ragazza frequentava proprio l'alberghiero. Parla l'imprenditore di Ispoltore, alla guida dell'Audi, l'automobilista, una fatalità, quella è una strada maledetta. La mamma poi racconta che la figlia non avrebbe dovuto prendere quell'autobus ma è stata costretta da un ritardo a scuola. Ancora incidenti stradali, in via di sotto a Pescara, fattorino ferito, consegna alla pizza e si schianta, è grave, il 18enne di Pescara stava rientrando nel locale dove lavora quando si è scontrato con un'auto e è finito. In rianimazione la struttura del lungomare Matteotti, valorizzazione ex fea, Blasioli, basta, ritardi. Poi Polizia Urbana, il nuovo comandante, vigili palestini in pole position, ma sono in corsa altri quattro nomi, sono in crescita le quotazioni del capo della municipale che sostituisce Maggitti per sei mesi, tra i possibili candidati anche Cichella, Porreca, Benigni e Montanari. Entro l'anno la scelta da parte del sindaco. Poi, menze e genitori sul piede di guerra, sia i bimbi col panino da casa, il presidente del comitato, Cretarola, annuncia una nuova protesta a partire da lunedì prossimo, pronto il ricorso al TAR per il no dei consigli di istituto e la commissione di controllo non c'è ancora. Poi ancora, scende dal treno, scusate, con 5 kg di droga presa, la 36enne nigerana era da poco arrivata a Pescara, controllata dai finanzieri nell'area di Risulta. Completiamo le pagine di Pescara sul centro. Addio a Luigi Mosca, il primario gentile chiamava i pazienti, il medico fondò il reparto di pneumologia dell'ospedale, oggi alle 12 la cerimonia laica nella cappella di Sant'Anna. Infusione di farmaci oncologici, l'ospedale di Pescara fa scuola, l'ospice di Via Paolini, centro di riferimento nazionale, ieri è stato tracciato un bilancio dei 5 anni e noi possiamo andare a vedere anche questo servizio. L'idea di costituire un team aziendale con l'obiettivo di garantire per ogni paziente il giusto accesso venoso per facilitarne le cure è stato il punto di partenza del team aziendale multidisciplinare di accessi vascolari, il TAMA dell'ASL di Pescara, istituito nel 2015 per volontà della direzione sanitaria aziendale. Il TAMA è costituito da professionisti sanitari formati e competenti nell'impianto ecoguidato di catetere venoso centrale, il PIC o periferico midline, ad inserzione periferica a medio e lungo termine per la somministrazione di farmaci, chemioterapici, nutrizioni parenterali, sangue ed emoderivati. Cinque anni di attività del TAMA di Pescara, dottoressa di cosa parliamo di un team specializzato in cosa in particolare? Nel posizionamento e nella gestione di cateteri venosi per le varie terapie eseguito da infermieri, quindi parliamo comunque di un'equip multidisciplinare perché ci avvaliamo anche della consulenza di medici e di specialisti qualora ce ne fosse la necessità. Sostanzialmente però è una procedura che oggi portiamo avanti da cinque anni a gestione esclusivamente infermieristica. A beneficiarne sono pazienti oncologici, oncoematologici, pediatrici, pazienti in terapie di supporto, quindi pazienti terminali che hanno bisogno di terapie continue. Il PIC team, il TAMA è entrato un po' nella prassi assistenziale in quanto i benefici sono molto evidenti. Il paziente può tenere questo sistema anche per anni, per tutto il tempo della terapia e noi sappiamo che il progresso scientifico adesso ha costituito anche delle malattie importanti che sono diventate croniche. La cronicizzazione, pertanto il paziente ha bisogno comunque di un accesso, ma anche pensiamo ai bambini che hanno bisogno di fare spreglievi e trasfusioni settimanali. Quanto stress viene loro evitato potendo avere un accesso disponibile, sicuro, che sicuramente non comporta nessun impedimento poi nelle attività quotidiane e anche di gioco. Restiamo sul quotidiano Il Centro, pagina di Montesilvano. Verso l'autunno, primi appuntamenti turismo, si riparte dal Paladin Martini con fiere e congressi. La nuova gestione di Scannella propone già diversi eventi, dagli sposi all'elettronica, dai tetuaggi alle macchine da corsa. Pagina successiva, la fusione tra i comuni Nuova Pescara e il giorno del confronto in aula. Oggi a Pescara la seduta per dar via alla Commissione per Statuto e linee guida, ma Spoltore e Montesilvano ribadiscono la loro contrarietà all'Unione A3. Ancora marcia a piedi a rischio per le fronde incolte, via Bocca di Valle, denuncia di rinascita a Montesilvano, pericolo per i bambini. Ancora avanti Largo Vergani, siamo a Francavilla, bufera dopo la piccola bugia di Luciani. Francavilla, non si placano le polemiche dopo la marcia indietro del Sindaco sulla promessa di riaprire l'area. Todisco e Paolini andrà spiegato in Consiglio Comunale. Nella pagina successiva, il nuovo anno scolastico, i primi numeri, penne, boom di iscrizioni, gli istituti fanno il pieno. Al liceo quasi 100 alunni in più, al Marconi crescono anche gli studenti stranieri, ma restano criticità e problemi nelle sedi, giardini e paratore in attesa dei fondi. Nel taglio basso a Manopello Scalo, festa per la nuova scuola, 4 anni dal primo finanziamento, conclusi i lavori di ampliamento dell'edificio della primaria. Adesso andiamo a vedere le pagine di Pescara sul messaggero. Rosanna amputata parte di una gamba e l'apertura di pagina. Non è riuscita l'impresa dei chirurghi impegnati per 10 ore. La ragazza porterà per sempre le conseguenze dell'incidente. Non ce la sentiamo di parlare ora. Il dolore e il silenzio della mamma e dei parenti nei corridoi di rianimazione. La procura aprirà un'inchiesta per lesioni gravissime. Sotto la lente la posizione dei due autisti coinvolti. Senza tregua con lo scooter contro un auto grave rider di una pizzeria. Notizia che arriva sempre da Pescara. Nel taglio basso la sanità in lutto per Luigi Mosca, il medico delle battaglie anti-smog, lo storico primario di pneumologia, da poco in pensione, stroncato da una malattia. L'emozione dei colleghi. Abbiamo visto poco fa terapie mininvasive grazie all'equip per gli accessi venosi. L'ospedale di Pescara diventa centro di riferimento regionale. Gli infermieri si specializzano nell'impianto di cateteri fissi. Poi il patron di Acqua e Sapone Barbarossa sul podio degli Oscar per l'innovazione per quanto riguarda le imprese. Ancora nuova Pescara, Montesilvano fa leva sulla storia. Oggi l'assemblea costitutiva, il fronte del nord, rispolvera, una corposa bibliografia. Il Vate, l'amico cronista tedesco per raccontare l'Italia delle osterie. Enrico Di Carlo ha curato la nuova edizione di bestseller di Hans Brath con documenti inediti del vittoriale. Nella pagina successiva, la cronaca. Cinque chili di marijuana nel troll e una nigeriana di 36 anni fermata dalla guardia di finanza appena scesa dal treno nel bagaglio anche un etto di Ascis. La zona fra stazione centrale e aree di risulta si conferma riserva di caccia delle organizzazioni malavitose africane. Donne nel mirino morta dopo la violenza. A novembre la prima udienza davanti al GUP. I romeni accusati del caso Carlini ci sarà anche Nelu Ciuraru appena estradato. Falsa partenza, caso ACA slitte il processo per il dissesto finanziario. Restiamo sul messaggero, andiamo nelle pagine di Chieti. Assistenza agli studenti disabili di Biase, il servizio è garantito all'assessore, interventi in base alle priorità ma questa voce di bilancio non sarà penalizzata. Le scuole daranno al comune le schede di ogni studente per stabilire se c'è la copertura. Poi prende per il collo e morde la fidanzata, finisce in manette, notte di paura e grida in un alloggio ma lui respinge le accuse. Creptomane fa razzia di merce, il PM si accerti se è pericolosa. Nel taglio basso guerra dei taxi, basta beceri campanismi, Marisa Tiberio di Confcommercio e dice la sua sulla carella divampata all'aeroporto. Andiamo nella pagina successiva. Emanuele pestato da sei ragazzi ubriachi, gli aggressori, diciotteni identificati grazie alle telecamere, uno di loro si è presentato in caserma e ha fatto tutti i nomi. La vittima, dimessa dall'ospedale di Pescara, ci dovrà tornare per un controllo nella speranza di poter salvare l'occhio ferito. Andiamo a vedere poi presunto abuso d'ufficio a Ecolan, assoluzione, il fatto non sussiste, secondo Maxi Processo per sette imputati, d'accordo anche il pubblico ministero. Nel taglio basso la Pilkington, scongiurati i 55 licenziamenti con il ministero che ha dato l'ok alla proroga degli ammortizzatori sociali. Andiamo sulle pagine del centro, sempre per quanto riguarda Chieti. Entra dal balcone e morde la fidanzata, arrestato un carabiniere dopo una sera trascorsa con gli amici. L'aggressione scaraventa la donna sul letto e la picchia, ma lui nega tutto. Nell'appartamento sono intervenuti i poliziotti della volante, giovanera ubriaco. Andiamo a vedere poi le altre notizie. Dopo la nottata alla svolta, pestato in strada a 17 anni, scoperti tre aggressori. I carabinieri denunciano tra i 19 anni, l'accusa è di lesione aggravata e migliore il ragazzo ferito gravemente all'occhio ne avrà per almeno un mese. La Pilkington, abbiamo visto già, stop ai 55 licenziamenti, arriva la proroga della cassa integrazione per il colosso che produce vetri per le auto. Nel taglio basso, incarichi d'oro per i rifiuti tutti assolti, cade il reato d'abuso d'ufficio per gli ex componenti del CDA del consorzio Ecolan e un avvocato. Adesso le pagine di Teramo, sul centro i passi avanti sulla ricostruzione, Rivera scrive ai comuni e sblocca l'assunzione di nuovo personale. Per 25 tecnici i sindaci potranno scegliere, delegare l'ufficio speciale o procedere in proprio. Per gli altri si attende l'ordinanza del commissario che disciplinerà criteri e modalità di selezione. Nel taglio basso, perde alle slot e simula una rapina. Alba, il 60enne, non sapeva come giustificare alla moglie l'ammanco di 1000 euro. Incendia l'auto della figlia, papà di Silvia Processo. In aula il racconto della ragazza per anni ha maltrattato me e mia mamma. Con quel gesto ha voluto vendicarsi dopo che ho scoperto i suoi tradimenti. Andiamo a vedere le altre notizie. Nuove assunzioni al comune di Silvi. L'ente ha bandito il concorso per due addetti alla manutenzione con contratto part-time a 18 ore. Prima di passare alle pagine dell'Aquila andiamo a vedere le pagine di Teramo sul messaggero. Vie lavori, traffico nel caos, autobus in ritardo e proteste. Il piano asfalti parte tra molti disagi, difficoltà e ingorghi nelle ore di punta, incroci intasati, circolazione in tilt, fracassa, opere da fare d'estate. Non adesso. L'assessore alle manutenzioni di Buonaventura ha controllato di persona l'avvio del cantiere. Poi l'aggressione è lite, ragazzo sfregiato al volto con una bottiglia colpito da due amici che erano con lui in piazza Garibaldi, residenti. Qui solo degrado e abbandono. Ancora Roseto, comunità chiusa, esposto in procura per quanto riguarda uno dei soci fondatori della comunità per i minori di Montepagano. Andiamo avanti con le pagine del messaggero per quanto riguarda Teramo. Prati di Tivo, ancora cavi tagliati, secondo gravissimo episodio contro la struttura sciistica. Si indaga per danneggiamento aggravato a carico di gnoti. Ad agosto reciso un filo elettrico a terra dell'impianto di sicurezza della stazione intermedia della cabinovia. Giulianova, caffè dell'Anfas, ennesimo ride nel birino anche la serata benefica. Nel taglio basso di questa pagina la Corte dei Conti risponde al Comune e le indennità percepite vanno restituite. Poi ad Alba spende 1.000 euro alle slot e simula la rapina. Viene denunciato. Andiamo a vedere anche la città e concludiamo così le notizie dal Teramano. Carogne abbandonati in un fondaco in Via Longo. I Niasmi mettono in allerta l'intero quartiere. Scoperto una discarica abusiva con resti di macellazione. Poi disagi per gli asfalti minori del previsto. Code all'ingresso e all'uscita da scuola lungo lo stradone. Intanto metà ponte San Gabriele è già stato riasfaltato. Poi l'illuminazione pubblica lungo Via Capuani si torna all'antico con i lampioni a luce gialla. Dite tra nulla facenti e finisce a bottigliate e violenza all'uscita da scuola ai giardinetti di Piazza Garibaldi. Intervengono polizia e ambulanza del 118. Mari Ceci alla presidenza dell'Ater di Teramo. Il direttore vicario dell'Inaid è scelta dal presidente del Consiglio Sospiri per sostituire Nicola Salini. Il tapiro d'oro è per chi assiste al question time. Mai così inutile il Consiglio Comunale di Teramo dedicato a mozioni e interrogazioni. Eppure il gettone va pagato. Poi a Montorio il centro storico riparte dai nuovi servizi. Ieri a Palazzo Patrizzi il taglio del nastro per gli sportelli del mote per la raccolta dei rifiuti. ATR botta e risposta tra sindacati e proprietà. Discussione a suon di comunicati dopo l'Assemblea dei lavoratori che ha approvato lo sciopero di 40 ore. L'accusa per i sindacati. Non è possibile dover continuare a seguire chi non riesce a mantenere gli impegni. Tre feriti nel ribaltamento del Land Rover. Brutto incidente a controguerra. Intervento dell'elicottero per trasportare un uomo rimasto incastrato in auto. L'altro ferito, l'uomo alla guida che stava perdendo sangue è stato portato in ospedale da un'auto di passaggio. Andiamo avanti. Lavori al porto grazie al centro-sinistra. L'ex assessore regionale Pepe visita lo scalo giuliese assieme a Verticelli. Nella pagina successiva allarme personale al comune di Silvi. Il sindaco annuncia nuove assunzioni. Andiamo a vedere adesso le pagine dell'Aquila. Ripartiamo dal quotidiano Il Centro. Sul mona gestione giapponese il piano Marelli Assunzione e nuovi investimenti. I sindacati firmano l'intesa con l'azienda per la proroga di 30 contratti scadenza e l'arrivo di 10 lavoratori interinali. Poi ancora tasse. La regione partirà per Bruxelles. L'Aquila incontro a Palazzo Silone fra Marsilio e le associazioni delle imprese sui tributi da restituire. Orso in cerca di cibo per le vie del Borgo, Villalago e residenti preoccupati. Ormai c'è chi per paura non esce più di casa. Bisogna fare qualcosa. Avezzano ha animali preistorici. sulla panoramica Dino Parco. Oggi c'è il taglio del nastro. Il commissario Passerotti dice sì al pagamento dei 120 mila euro spesi per completare i lavori e sblocca così l'apertura. Palpeggio una minore. Chiesto il processo. Il fatto accaduto a pochi passi dal centro città. Il 37 anni è accusato di violenza sessuale. Poi Guanciale lavorerà gratis per il teatro. L'attore Avezzanese si curerà senza retribuzione. Il coordinamento della stagione di prosa del teatro dei Marsi. Prima di passare allo sport completiamo le pagine dell'Aquila anche sul messaggero. La ricostruzione privata terminerà tra cinque anni di indicazione emersa durante la riunione della commissione territorio delle comune. Entro il 2021 la conclusione dell'istruttoria delle pratiche fatta eccezione per gli aggregati. In aula anche l'assessore Vittorio Fabrizi secondo il quale è stato fatto un grande lavoro con risultati positivi. Scendiamo nel taglio basso. L'inchiesta anziana precipitata indagato il marito. Nella pagina successiva nel pianeta Sharper la scienza diventa divertimento. Torna il 27 di settembre la notte europea dei ricercatori. L'università festeggerà invece per un'intera settimana. Poi task forza antispazzatura. L'iniziativa puliamo il mondo. Tre giorni per eliminare i rifiuti. Aquilani protagonisti. Lettera per la città. L'amore di De Nicola. Dimmi che esiste il romanzo di Selene. Poi il parozzo speciale di Federico Marrone. Questi alcuni personaggi importanti per l'Aquila. Poi nella pagina della provincia. Sgarbi. Boccia e restyling del centro. San Francesco della Scarpa. Sul Mona. La riqualificazione nel mirino del critico d'arte. Guardate cosa hanno fatto. Ma si può contestate sedute. Fioriere in travertino quadrato che per forme e colori cozzano con il contesto architettonico. E siamo così arrivati alle pagine dello sport. Partiamo dal calcio di Serie B e dal Pescara. Sul centro il bomber in redazione. Maniero. Pescara nel cuore. Mi farò perdonare con i gol. L'attaccante. Lasciare il Delfino nel 2015 fu un errore. Ora voglio la Serie A. Il quinto campionato in biancazzurro. Memorabile nella promozione con Zeman. Il Boemo mi ha cambiato la carriera. Queste le parole di Riccardo Maniero. Nel frattempo a proposito di attaccanti. Tuminello è stato operato. Torna fra sei mesi. Intervento riuscito a Villa Stewart. Ora per il bomber. Inizia una lunga riabilitazione. Andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport sul messaggero. Fiorillo consiglia un Pescara cinico. Il portierone avvisa tutti in vista dell'Entella mettere la firma per vincere come a Cosenza. Dobbiamo avere questa fame perché i gol dovranno arrivare con questo spirito. Così il capitano e portiere del Pescara. Poi Tour de Force. Zauri riavrà Bettella, Balsano e Crecco per questi impegni ravvicinati del Pescara. Tre partite in una settimana con Virtus Entella sabato. Cittadella martedì in trasferta e Crotone venerdì sera in anticipo. Poi ancora il ciclismo. Trofeo Matteotti prove per il mondiale. Stefano Giuliani. La gara si svolgerà. La vigilia della Kermessi ridata. Avremo corridori di grande qualità. Restiamo sul ciclismo. Facciamo un salto sul centro perché continuiamo a parlare del Matteotti domenica a Pescara. Cassani, il Matteotti festa del ciclismo. Tutto pronto per la settantaduesima edizione della classica abruzzese. Il CT dell'Italia esalta la manifestazione in vista del mondiale. Il presidente Sebastiani prima del via minuto di raccoglimento in memoria di Gimondi. Noi possiamo andare a vedere il servizio di Jacopo Forcella sulla presentazione del Matteotti. Presentata l'edizione numero 72 del trofeo Matteotti. La classica abruzzese che vedrà protagonista i comuni di Pescara e di Montesilvano come di consueto nel circuito tradizionale. Un'edizione questa ulteriormente rinnovata rispetto alla scorsa stagione ci sarà la nazionale italiana con Davide Cassani, con il nostro Giulio Ciccone, ma anche con Matteo Trentin che sarà uno degli uomini di punta se non il capitano della nostra nazionale ai mondiali in Inghilterra che si sputeranno pochi giorni dopo il trofeo Matteotti. È un continuare un percorso che Renato Ricci, dopo il papà prima, avevano messo in piedi con grandi soddisfazioni e noi stiamo cercando di continuare e cercare di migliorare tutto qua. Sono contento che il cast partente è più importante. Vi dico che per me è stato molto impegnativo, lo è fino al 22 sera, però sempre orgogliosi quando fai qualcosa di costruttivo. Aumentano le squadre World Tour, ma soprattutto c'è curiosità perché il trofeo Matteotti inevitabilmente dà delle indicazioni a Davide Cassani per le convocazioni ai mondiali nello Yorkshire. Sì, sicuramente un po' i giochi sono fatti, però quella rifinitura è anche la consapevolezza della formazione che poi la maggior parte parteciperà al mondiale e che non porti bene magari il Matteotti, che chi vince il Matteotti vince anche il mondiale, allora siamo veramente ancora più felici. Edizione rinnovata dunque si diceva e la vera novità di questa edizione è il ritorno nel mondo delle due ruote della famiglia Acqua e Sapone, della famiglia Barbarossa che torna dopo l'esperienza con la squadra di ciclismo a dare manforte a quello che è una delle classiche del ciclismo italiano ed internazionale. Io non so se abbiamo mai lasciato perché poi essere appassionati di sport fa sì che non è che se non è una squadra non segui questo mondo. Poi credo che il Matteotti si vada un po' oltre il discorso ciclismo. Per l'Abruzzo è un proprio evento che ormai si porta da 72 edizioni quindi diventa una manifestazione come può essere qualsiasi altra delle forze dell'Annunzio alto per pescare quindi è un evento particolare, noi abbiamo sempre dato una mano, quest'anno l'abbiamo dato un po' di più perché comunque ci siamo sentiti per dare una mano alla nostra regione. E a proposito di ciclismo vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Velo, la trasmissione del patron Luciano Rabbottini che avrà un ospite d'eccezione Giulio Ciccone che insomma è reduce dai trionfi anche al Giro d'Italia. Torniamo invece al calcio adesso e concludiamo così la nostra rassegna stampa con la Serie C ed il Teramo. Mungo, sì da mezzala, mi trovo meglio. Per l'ex Cosenza Calabrese Doc, sabato un derby a vivo con il Rende. Andiamo per fare punti, un mese molto impegnativo per il diavolo che sarà costretto spesso a giocare una volta ogni tre giorni. Gli impegni non sono impossibili sulla carta ma il tour de force restituirà il valore della squadra. Un focus anche sugli avversari da Savelloni, Ascimi e Morselli. Quanto Pescara c'è a Rende? Alcuni giovani della cantera bianca-azzura che lo scorso anno giocavano a Fano, ora cercheranno la consacrazione in Calabria. Andiamo a vedere anche il titolo sul Teramo per quanto riguarda il centro. Teramo con il Rende iniziano 18 giorni di fuoco. In meno di tre settimane la squadra allenata da Tedino dovrà giocare cinque gare. Mungo punta al colpo in Calabria dopo due K.O. in trasferta. Ora serve la vittoria. E poi nel taglio basso Icrella-Notalescu un affare da 17 palloni. Dalla prima alla D l'esterno marocchino preso dal Roccaspino Albeti in cambio di materiale tecnico. E poi andiamo a vedere il titolo sul Teramo anche sul messaggero. Teramo vuole il bis corrende. I biancorossi a caccia della prima vittoria. Fuori casa. Mungo ci siamo tolti un peso. Da sabato inizierà il miniciclo che vedrà il Diavolo affrontare i calabresi, la Viterbese mercoledì e poi il Monopoli. Per quanto riguarda il rugby il Teramano Riccioni spinta per i mondiali. Il 22enne pilone domenica titolare nella World Cup che si gioca in Giappone. È tutto per la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. Mattino 6 torna domani alle ore 8. La nostra informazione invece come sempre con il Tg6 delle ore 14 e poi delle 19 e delle 23. Grazie ancora e buona giornata. Grazie.